Le fake news in medicina esistono perché noi esseri umani tendiamo a credere a cose non vere ma molto comode e questo vale per tutti gli ambiti della nostra cultura. In medicina in particolare uno può tendere a pensare che esistano notizie false messe in giro da qualcuno che ci guadagna. Bene, questo è un caso, è vero. Ci possono essere guadagni più o meno fraudolenti, ci possono essere questioni di marketing magari che si spingono nelle zone grigie, è il caso di tanta informazione sull'alimentazione e ci possono essere invece fake news che tecnicamente sono errori giornalistici che poi dopo rotolano giù a valanga e magari hanno successo nell'ecosistema della notizia perché sono molto belle da raccontare. C'è però da dire che la ragione vera del successo delle fake news e quindi anche della loro esistenza è il fatto che a noi piacciono un sacco e che noi tendiamo a cliccare sopra le notizie di salute più che sulle altre notizie perché più spesso ci riguardano, perché più spesso ci sentiamo toccati, mangiamo tre volte al giorno quindi è ovvio che siamo sempre molto interessati a quello che mettiamo nel piatto e perché colpiscono in maniera molto profonda le nostre emozioni, malattie, drammi familiari, personali, situazioni di vulnerabilità ovviamente sono anche le cose nelle quali impegniamo molto la nostra emotività. Una prima cosa che si può fare per difendersi dalle fake news è rendersi conto che più o meno tutti ci cascano e più o meno tutti continueremo a cascarci, quindi dare per scontata la propria vulnerabilità. Difendersi appunto è difficile, io sono però profondamente convinta che un sistema che difenderebbe tutti reciprocamente l'uno e l'altro, quindi non soltanto noi stessi con noi stessi, sia quello del dialogo. Partendo dall'idea che le notizie sbagliate si creano dentro ecosistemi e dentro ecosistemi si diffondono rendersi conto che noi facciamo parte di questi ecosistemi e quindi degli altri abbiamo inevitabilmente bisogno.